Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. L'ultima frase che ha fatto la nostra sala giudice, cioè io sono convinta che ci sia un pezzo di imprenditoria che ci mangi, che quindi non siano i criminali da soli a fare tutto da soli, ma ci sia una sponda. Che cosa può precisare meglio questo? C'è stata una tale spuderatezza, non arroganza, spuderatezza con cui questo soggetto mi ha avvicinato, una tale sicumera con cui ha fatto una richiesta, quella che ha fatto a me. E' anche una quasi certezza della mia risposta, che per me è, mi assumo naturalmente tutte le responsabilità di quello che sto per dire, è facile pensare che l'imprenditoria con cui lui è venuto in contatto sia stata un'imprenditoria che non ha avuto problemi ad accettare la sua offerta. Perforabile, perfettamente. Assolutamente. E senta, e dato che ci siamo, questo delinquente, questo nasca che grazie alla sua denuncia è stato arrestato, poi ci entriamo un po' più nel dettaglio, mi lantava anche contatti politici importanti? Allora, io devo essere molto franca. Allora, se parliamo del sindaco, no. Lui in realtà mi ha parlato dell'episodio sul sindaco solo ed esclusivamente per spiegarmi che lui poteva suonare a qualsiasi citofono. Ha approfittato di una fotografia chiaramente casuale, in cui Gualtieri non sapeva, per giocarsela, diciamo, nell'accreditarsi. Non l'ha mai utilizzato come jolly, anche perché un delinquente che delinque su ostia da 41 anni, 41 anni, dal 1980, obiettivamente pensare che il suo problema sia la politica di adesso forse mi sembra un po'... Certo. Però la domanda che le faccio, lei ha un grosso progetto, sono più di 150 appartamenti, insomma, tanti spazi ad ostia, no? Che dovrebbero recuperare, diciamo, questo litorale. Perché sono tanti, immagino sia un progetto anche con tanti soldi. Allora uno si domanda, ma non è più comodo pagare 500 mila euro e metterla, chiuderla lì? Naturalmente faccio una domanda, non condivido questo, ma mi domando... È una domanda che mi hanno fatto tutti. Devo dire che però è anche una domanda a cui è molto facile rispondere per me, perché per me non c'è mai stata un'alternativa. Io sono cresciuta con l'idea che le cose giuste non hanno bisogno di un perché. Quindi non esiste qualcosa di diverso da fare qualcosa che sia giusto per me. E quindi per me pagare quei 500 mila euro poteva sicuramente significare dormire qualche sonno più tranquillo, ma sicuramente per me non sarebbe mai stata la possibilità. E devo dire una cosa, però. Siccome la domanda che mi ha fatto lei spesso me lo fanno i cittadini, mi hanno detto, ma lei che non aveva nulla da perdere, perché l'ha fatto? Io rispondo, appunto, perché era una cosa giusta. E loro mi rispondono, l'ha fatto lei, lo facciamo anche noi. E questo forse è uno di quegli elementi di soddisfazione. Quando fai determinate cose, soprattutto il mese successivo a quando i due soggetti sono stati arrestati... Perché sono due, ricordiamocelo. Uno è Nasca De Santis, ma prima c'è un mediatore che è quello che viene considerato il RAS degli stabilimenti balneari di Ostia, che si chiama Papagni. Paolo Papagni. Paolo Papagni ha arrestato anche lui insieme. Lui arriva e le fa capire che c'è da incontrare questa persona che risolve i problemi, no? Assolutamente, assolutamente. E lei lo incontra questo Papagni? Assolutamente sì, perché tra le altre cose, essendo, come dice giustamente lei, un soggetto che ha sempre un po' girato per Ostia, sono un po' una famiglia conosciuta, tra le altre cose io erano anni che non lo incontravo e lui riesce ad agganciarmi perché dopo mesi e mesi in cui nessuno di loro riusciva in qualche modo ad entrare in contatto con me, lui comincia a mandarmi una serie di messaggi continui, compulsivi. facendomi pensare che qualcosa su Ostia, che è un territorio che sicuramente io conosco, ma che è un territorio che ha tanti altri imprenditori, ottimi imprenditori, e ci fosse qualcosa che in realtà non andava. Io ho pensato sinceramente a tutt'altro rispetto a quello che mi ha proposto. Io pensavo che fosse una mera questione di vicinato. E quindi è andato a vedere. Per me sì. E poi lì ha capito invece che la partita era un'altra. È stato molto chiaro. Perché gli ha detto io conosco uno che ti risolve i problemi sotto il punto di vista della burocrazia, dei permessi, della protezione e che non ti succeda niente. Ma più che sulla burocrazia e permessi questo, no. Loro sono sempre stati molto chiari dicendomi che mi avrebbero poi tutelato da tutto quel sistema che anche voi avete denunciato, di criminalità collaterale, che sicuramente avrei... Urti, incendi, violenze, tutto. Lei ha la sensazione che Ostia sia mafiosa? Qui bisogna essere molto seri e precisi. Se lei mi avesse fatto questa domanda qualche anno fa io le avrei detto sì. Lei ha ragione. Ha talmente ragione che qualche anno fa anche il lessico di Ostia era cambiato. C'era un'elegia nel racconto di alcuni fatti che per me era quasi surreale. Ma era talmente surreale che io a volte ho avuto anche difficoltà a pensare che fosse vera. Poi ho scoperto che invece ad Ostia non c'erano coloro che recuperavano il credito come possiamo pensare noi ragazzi appena laureati, ma che il 70% del credito recuperato da Ostia era recuperato dagli spezza-Ossia di cui mi hanno raccontato. Però tanto è vero che Ostia è stato forse il luogo di nessuno per tanto tempo, tanto è vero che ho conosciuto tantissime persone e bisogna sempre ricordarsi che in luoghi come Ostia dove obiettivamente la criminalità organizzata ha una fetta importante di gestione dell'economia non si può vivere in mezzo o si è bianchi o si è neri. Perché nel momento in cui... Lei ha deciso di stare bianca. Ma anche le persone però che io conoscivo... Lei pensa di essere d'esempio per altre persone in questo momento? Allora io spero di essere d'esempio per altre persone anche perché le ricordo che quel mese diciamo di solitudine che c'è stata poi in realtà banalmente un giorno ho letto un giornale leggo che proprio in quel mese le denunce anti-Racket di Ostia erano aumentate del 35%. Non ha paura di rimanere sola? Non ha paura che questi tornino? Può succedere. Non mi sento sola perché sinceramente in questi ultimi mesi tante di quelle persone che sono nel bianco ad Ostia non solo si sono fatte vive non solo le ho riscoperte non solo finalmente hanno detto quel come, quel quando, quel perché non c'è più perché quando... La cosa che un pochino mi razzistava quando parlavi con queste persone che io dico nel bianco loro ti sapevano dire esattamente quando era successo, quando era cominciato come era cominciato perché lo Stato non ce l'ha stato Ecco, su questo noi abbiamo cominciato la trasmissione sul tema della legge l'ordine poi abbiamo molto parlato di questi decreti sui revi eccetera sicuramente c'è un governo che promette di ristabilire ordine legalità, polizia, controllo sul territorio si sente di fare una richiesta al governo della Meloni? Io devo dire due cose prima di tutto attenzione perché noi abbiamo comunque una parte dello Stato e parlo in particolare del PM che mi ha seguito delle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso perché noi abbiamo sicuramente una magistratura che fa fatica che ha pochi mezzi ma che tutti i giorni sta lì sul pezzo anche perché io non nasco e finisco cioè questo è un lungo percorso che la magistratura fa e abbiamo delle forze dell'ordine capacissime professionali che sono lì forse non le vediamo, non le capiamo ma ci sono però chiedo una cosa al governo soprattutto se parliamo di luoghi legati alla criminalità organizzata non basta svuotare bisogna riempire ognuno di quei luoghi che rimane vuoto a cui non si dà un senso a cui non si dà un'alternativa che non si restituisce alla comunità attiva quella che fa le cose tra virgolette giuste è una grandissima sconfitta e bisogna farlo anche velocemente E questo è un bellissimo sedaggio riempire di persone di vita, di attività commerciali di persone per non lasciare che la criminalità entri diciamo e se ne possessi Esattamente se li lasciamo vuoti e li svuotiamo e basta facciamo un danno enorme In bocca al lupo per la sua battaglia e grazie Non so se dire crepi o evviva E viva Diciamo evviva Grazie Bella però questa storia Molto